La piazza, un tempo ingresso alla città greco-romana, è la partenza ideale verso il centro antico di Napoli, che si sviluppa lungo le tre strade parallele intersecate ad angolo retto da vie più strette. Tale tracciato, ancora oggi dopo 2500 anni, conserva la configurazione ideata dai Podamo da Mileto, architetto greco della fine del VI secolo a.C. La piazza introduce la prima strada trasversale che, aprendosi al centro della città, ha preso il nome di Spaccanapoli. Oltre le mura c'è il famoso monastero di Santa Chiara, con la chiesa medievale di Tufo. Di fronte, il quattrocentesco palazzo della famiglia San Severino, trasformato nella chiesa del Gesù. Infine, al centro, si eleva la Guglia dell'Immacolata, una caratteristica architettura tardo-barocca napoletana. Il monumento, commissionato dai padri gesuiti nel 1743, è un colossale festone di pietra alto più di 30 metri. La chiesa, inaugurata nel 1601 dall'architetto gesuita Giuseppe Valeriano, nasce nel 1584 dalla trasformazione di uno dei più importanti palazzi aragonesi della città, costruito un secolo prima per i San Severino, principi di Salerno. La facciata dell'edificio conserva il motivo del bugnato a punta di diamante, tipico dell'architettura signorile rinascimentale. L'interno è sviluppato su un'apparente pianta centrale a croce greca, nonostante vi sia il braccio dell'altare maggiore poco più lungo. La prima cappella a destra è stata decorata da uno dei maggiori artisti del 600 napoletano, Cosimo Fanzago. Architetto e progettista di apparati decorativi in marmi policromi realizzò anche le figure dei profeti Davide e Geremia. La cupola, ricostruita ben quattro volte, conserva freschi e dipinti di vari artisti del 600, fra cui Luca Giordano, Massimo Stanzione, Giuseppe de Ribera e nei pennacchi gli evangelisti di Giovanni Lanfranco. L'altare maggiore fu realizzato invece nell'Ottocento da Antonio Busciolano. Le pareti ad affresco, gli stucchi e i marmi policromi creano un insieme sfarzoso e imponente. L'affresco della cacciata di Eliodoro dal Tempio, collocato sulla controfacciata, è datato 1725 e firmato da Francesco Solimena, il maggiore pittore del primo 700 napoletano. Il soggetto illustra il tentativo di Eliodoro, ministro siriaco, di impadronirsi del tesoro del Tempio di Salomone. La grande composizione, affollata di personaggi ma magistralmente inquadrata in una scenografia architettonica, esprime tutta la maturità artistica del pittore, affinatasi in un recente soggiorno romano. Eliodoro che si difende dal cavallo impennato, gli angeli che lo bastonano e i numerosi personaggi di Quinta sono organizzati in una scena chiara ed equilibrata, in bilico tra neoclassicismo e barocco.